Vettuglio, pronto? Non chiami, non c'è mai. Vettuglio! Ciao, come stai? Bene, bene, sono per strada, eh? Come promesso sto scendendo. Perfetto, però adesso dobbiamo andare alla grande, dobbiamo continuare, dobbiamo tenere la tensione altissima, benissimo. Ma tu sai chi sarà il prossimo ospite? Dai, 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 ti do io l'inizio, dai. Tifa Roma! Tifa Roma!